Allora, buonasera a tutti, oggi siamo con Musa dal Senegal, è venuto da noi per fare una cosa molto molto particolare. Noi dobbiamo fare una conversione, abbiamo ottenuto appuntamento in quest'ora Milano da protezione speciale a permesso di soggiorno per motivi di lavoro, quindi noi abbiamo appuntamento martedì in quest'ora, qui andremo insieme e faremo appunto questa conversione da protezione speciale a permesso di soggiorno e lavoro subordinato. Musa, parla un po' nella tua lingua e dici un po'. Ok, assalamualaikum, un po', salmina mongiuramu batito, buon avvocato, buon avvocato, tu hai una felpa splendida, ciao, grazie. Salmina mongiuramu, arei anguokawa.